giurata di non tradire mai il gran consiglio giuriamo giurata di essere uno per tutti tutti per uno giurata di custodire segreti del gran consiglio giuriamo se lo vuoi veramente aiutare di farlo confessare patteggia si dichiara pentito si becca tre anni poi chiedete l'affidamento ai servizi sociali non si fa neanche un giorno di galera se becchiamo l'unico stronzo che vuole applicare la legge fino in fondo vabbè girma è l'unica soluzione sempre che il ragazzo ferito se la cavi